Merda! Io non ho visto nessun divieto, ma qua sono in una specie di autostrada, cazzo! Bastardi, solo in Italia mettono le indicazioni così, stronzi! Se muoio fate una petizione, sono a Novara, ho preso, io seguivo la Provinciale 11 per andare a Milano, sono finito qua, non so se autostrada, tangenziale, petizione, petizione se muoio!